Sta suscitando polemiche l'esclusione di Nuoro come sede di una base del futuro sistema di elisoccorso che la Regione intende implementare nei prossimi anni. Un progetto, ha spiegato nel corso di un'edizione presso la Commissione Consigliare Sanità, la sorella Luigi Arru, che in dirittura d'arrivo e presto vedrà l'emissione di un bando europeo del costo di 90 milioni per 10 anni e prevede la dislocazione dei mezzi nelle basi di Alghero, Cagliari e Olbia, qui con servizio H24, per assicurare interventi di primo soccorso nel tempo massimo di 20 minuti all'interno di un raggio di 50 miglia. Sull'esclusione di Nuoro interviene con una nota il consigliere regionale dei riformatori Luigi Crisponi che critica sia il costo del nuovo servizio che va a sostituire quello che in questi anni è stato suolto dal reparto volo dei vigili del fuoco con costi ridotti, pari a un milione all'anno. L'esponente all'opposizione sottolinea che nonostante Nuoro sia stata destinata a diventare la sede della Reus, l'azienda regionale per l'emergenza urgenza ai 118, si prevede la dislocazione dei tre elicotteri nelle basi di Alghero, Olbia e Cagliari. È assurdo che nonostante Nuoro disponga di un'idonea attrezzata elibase proprio a fianco del San Francesco, praticabile anche in notturna, scrive in una nota Crisponi, venga scartata a priori. È incredibile che in considerazione dell'orografia del territorio, proprio quella base che sarebbe più funzionale per raggiungere in volo tutti i piccoli comuni del centro Sardegna, isolati da una rete viaria dell'Ottocento, venga invece scartata. Ma il consigliere Crisponi ricorda anche le decine di soccorsi prestati dagli AB 412 dei Vigili del Fuoco, proprio sugli impervi territori montane nel sopramonte. Ancora una volta, Nuoro anziché essere al centro delle politiche di sviluppo e di perequazione, conclude Crisponi, viene beffata dalle scelte sconsiderate dall'Aggiunta regionale.